Partiamo dal web catalog di questa azienda di Performance in Lighting e supponiamo di andare a prelevare un prodotto tipo il GIM2 a questo punto mi compare, quindi una volta selezionato il modello mi compare la lista dei prodotti disponibili all'interno del quale vado a scegliere il primo e vedete che automaticamente mi compare la scheda tecnica del prodotto con tutte le relative caratteristiche mi compare il diagramma polare che nell'ottica di quello che è web catalog 7 è un'immagine generata runtime una volta che ho selezionato il prodotto perché dietro esiste il file OXL dopodiché supponiamo che mi interessa scaricare il file LDT non faccio altro che aprire la sezione download premere su LDT e il prodotto viene scaricato piuttosto che IS e anche in questo caso il file IS del prodotto viene scaricato dopodiché posso entrare all'interno della scheda tecnica anzi posso selezionare la scheda tecnica ma prima vado ad esempio nella configurazione a definire che ho bisogno della scheda tecnica in in cieco a questo punto confermo seleziono scheda tecnica e dopo qualche secondo il programma provvederà automaticamente a scaricare la scheda tecnica del prodotto nella lingua in questo caso nella lingua cieca ok ma esiste anche la possibilità di accedere alla nuova sezione doc fotocolorimetrica e tramite questa sezione io posso visualizzare il diagramma polare il diagramma dell'apertura del fascio come anche passare all'esame dei dati di spettro quindi visualizzare il diagramma del CRI visualizzare i dati dello spettro quindi le relative coordinate nei vari sistemi l'indice di resa colore il delta UV il flusso il tipo di norma che è stato applicato tutto in questa finestra posso anche visualizzare lo spettro posso visualizzare i grafici di McAdams e infine per quanto riguarda questa configurazione visualizzare i grafici del PM30 ripeto queste immagini non esistono e sono realizzate runtime avete potuto notare che la risposta da parte del sistema è velocissima e tenete conto che quando io premo questo bottone per la realizzazione di tutti questi grafici il sistema prende il file OXL lo manda al nostro server dove è posizionato PVWeb elabora il server elabora le informazioni restituisce le immagini e vengono poi visualizzate abbiamo fatto dei calcoli i tempi per fare tutto questo sono nell'ordine per una singola immagine di 40 millisecondi vale a dire che sono risposte immediate abbiamo già fatto i test anche per verificare quanto è la risposta con migliaia di accessi la risposta è sempre nello stesso ordine di grandezza questo anche per il fatto di aver scelto un server web molto potente a questo punto però supponiamo che io voglia scaricare le informazioni abbiamo detto che questo prodotto io posso scaricarlo all'interno di l'iswin quindi se seleziono l'iswin a questo punto riduco l'immagine apro l'iswin e semplicemente con un'operazione di drag and drop seleziono il prodotto e lo porto in locale la stessa selezione può essere fatta anche a livello di programma di calcolo light calc nel senso che io prelevo il prodotto lo trascino all'interno di light calc e automaticamente il programma provvede anche al caricamento all'interno del database a questo punto posso selezionare ad esempio pv ed andare a esaminare la mia fotometria e non solo perché quando ho scaricato questa informazione per come è stata congegnata abbiamo visto prima che questo prodotto aveva anche tutto il set di informazioni di spettro quindi una volta che io ho scaricato il prodotto e passo l'informazione a photo view posso andare automaticamente anche a visualizzare in locale i dati dello spettro e tutte le altre informazioni che il produttore ha messo a disposizione però a questo punto supponiamo che come abbiamo accennato siano passati x mesi dal momento in cui io ho prelevato questo prodotto e abbia poi bisogno di verificare se effettivamente questo prodotto che avevo selezionato abbia i dati aggiornati oppure no la cosa si effettua in modo molto molto semplice semplicemente tramite la funzione di quick check seleziono la funzione compare questa finestra e premendo sopra aggiornamento plugin via internet vado a verificare se i dati sono aggiornati o meno qui vedete che il programma mi dice che i prodotti sono assolutamente aggiornati quindi non c'è bisogno di effettuare altro quindi non c'è bisogno di scaricare le informazioni sono perfettamente aggiornati un ulteriore elemento che vorrei introdurre è proprio il fatto di questo prodotto che è caratterizzato da un pacchetto direi completo di informazioni allora ad esempio è un file OXL supponiamo di ripetere l'importazione quindi io prendo apparecchio con dati completi semplicemente lo scarico all'interno di photoview mediante un'operazione di drag and drop e da qui io posso vedere che questo prodotto ha la parte fotometrica questo prodotto ha la parte spettrometrica ma questo prodotto ha anche la curva di flusso e potenza in funzione della corrente vale a dire se io in questo caso avessi bisogno per un calcolo di illuminazione pubblica di determinare qual è il flusso corrispondente a una curva di 416 mA faccio aggiorna e il programma automaticamente mi dà la coppia di valori corrispondenti al flusso e alla potenza in funzione della corrente di 416 mA da qui io potrei confermare e tutte le informazioni qui contenute verranno aggiornate in base a questo nuovo valore quindi da qui potrei immediatamente selezionare file salva file e salvare il file eulumdat tenete conto che ad esempio questa funzione potrebbe essere benissimo affiancata a una delle funzioni del web catalog quindi oltre a visualizzare i dati fotometrici e i dati di spettro potremmo anche avere questa funzione messa a disposizione da parte dei produttori per la gestione di file eulumdat perché ad esempio se c'è qualcuno che vuole continuare a utilizzare i programmi con i file eulumdat benissimo libero di farlo si genera il file corrispondente e utilizza questo file questo sarebbe il modo come ad esempio abbiamo detto accennato in precedenza dei file in cui eulumdat in cui io vado a gestire le diverse correnti vedete che qui la gestione del file è semplicemente fatta a livello di descrizione perché se edito questo file eulumdat il file eulumdat non ha al proprio interno il campo per definire la corrente quindi io sono costretto a gestirla a questo livello e raggiungo dei livelli di come dire lunghezze delle descrizioni vedete qui piuttosto piuttosto importanti e spesso queste descrizioni così lunghe possono provocare anche delle problematiche nella gestione dei file all'interno dei programmi stessi di ho qui l'unico l'unico l'unico